La macchina, come ti ho detto, come vi ho detto, ci ha sempre dato delle informazioni in termini quantitativi di quello che abbiamo fatto e io sono in grado di dare un risultato oggettivo di quello che ho fatto. Prima era il mio ego, la mia sensazione soggettiva. Ah, questo intervento è venuto molto bene, il ginocchio è stabile. Ma chi l'ha detto? Il intervento, la macchina ci dà dei risultati oggettivi che io posso estapolare, posso analizzare e posso dare anche al paziente. Faccio sempre un paragone, è come quando sono andato, oggi ho viaggiato proprio bene, sono andato fino a Liniano Sobbia d'Oro, bene, in poco tempo viaggiando sempre in maniera regolare. Oggi c'è il navigatore che ti dà qualsiasi informazione, il telefonino su quello che è stato dato. Ecco, è una macchina che ha aiutato e sta aiutando il chirurgo a lavorare meglio, ma siamo solo all'inizio. Il percorso è entusiasmante e non breve. Nel giro di 3-5 anni otterremo dei risultati straordinari. Per Villa Igea è attualmente l'unica azione per fare le protesi del ginocchio, quindi è standard, è la tecnica standard, è diventata per noi, per tutte le ginocchia. Da circa 8 mesi, i primi mesi abbiamo fatto uno e l'altro, oggi utilizziamo per la platisi del ginocchio solo tecnica rosa, Nii Zibna.